Mi mi Sotto Sotto Re Mi Fa Mi 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 I Fa Mi e sono 10 anni e faccio 4 anni. Mi hanno chagato il violino. Sono 8 mesi che faccio il violino. Non è difficile, sono molto bene sul violino. Il mio amore è il giusto e il trè. Il mio amore è il sistema che faccio il mio amore. E siamo una paura. Ho fatto un nuovo figlio. Ho fatto un coltwin, un angelo e altri. Il mio amore è il mio amore è il mio amore. Quando faccio il amore, quando faccio il amore, quando faccio il amore, quando faccio il amore, mi fanno qui con gli altri, sento l'occhio, l'occhio, l'occhio. L'occhio è dimentico. Il mio amore si tratta con il coro. Pazzo con lui una volta, qualche volta. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 When not on Nicoleta is important, yes. En Nicoleta is like someone God sent to help people in the same presumition and not only me, but people in the same situation like me, like us. You don't even expect nothing about life and you meet mediator and you started to think about di nuovo, inizia a fare un sogno di un nuovo sogno. Per il sistema, ogni volta non volevo essere con persone, non volevo parlare con me, solo volevo essere in modo, ogni volta. Ma con il sistema, ho cominciato a capire che posso fare molte cose che non ho mai pensato. Per il sistema, ho cominciato a capire che posso andare in scuola, perché il sistema, ho cominciato che posso farlo, perché il sistema, ho cominciato che posso fare molte cose. Per il sistema oggi credo che posso farlo con me, e che posso farlo con me stesso. Per ora, ho cominciato a capire che sono un'altra persona. Non ho sentito come come da un altro paese. Se ci sono stati che posso farlo con le nostre pelle, poi ci sono stati che i nostri spioli. Ci sono stati come i nostri spioli, e ci sono stati come i nostri spioli. Perché si può vedere che ci sono diversi da i nostri spioli. Questo è il sistema. Ci siamo tutti insieme, ci facciamo le cose insieme. Ci sono stati come una grande famiglia per tutti. Grazie. 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 Grazie.